Amici di Youtube, guardate Cremona, perché sono Cremona oggi in data non precisabile? Ma perché? Guardate insomma, insomma guardate qui il giornale della provincia di Cremona. Ma perché mi trovo in questa località, alla stazione ferroviaria di Cremona, pure da me amata? Perché sto aspettando il treno che va a pizzichettone, ormai son bitue l'aldo, andare nei luoghi dove le stazioni più abbandonate rinnovano in sé un senso di abbandono d'amore, sì l'addio. Ma pensate questa parola così importante, addio, quando si salutavano dal treno e dicevano addio. Ecco l'annuncio, ecco l'annuncio della stazione di Cremona, belli gli annunci. Ma perché devo dire questa frase qua, addio? Ma per me l'addio è un arrivederci. Non è assomiglia al senso simbolico della parola eutanasia, ma tra addio e eutanasia di un amore c'è ben differenza nell'appropriarsi il significato più specifico, in quanto eutanasia è la fine, potrebbe essere desiderata da ambe due le parti. Invece l'addio è una mancanza che l'altra persona deve andare e dà l'addio al partner. Ma non è un addio spiacevole, è un addio come un senso di rimpianto. E questa tesi la propongo a un giornalista dicendo che addio di un amore non è uguale, è eutanasia di un amore. Sono due cose distinte che sembrano uguali, ma non lo sono. C'è da scrivere veramente un libro tra questa diversità dell'essere, consistente sempre in amore.